ciao benvenuti sul mio canale il canale di Alvina è arrivato l'inverno e con l'inverno e il Natale partono i video di Natale e subiamo l'embolo del Natale allora partiamo con le stelle di Natale ad un colore per il momento ho fatto ancora una nuova playlist che si intitola Pillori di Natale e non spero che sia una Pillori di Longo Shelly Top e vi è con la sigla e non spero che sia una nuova e non spero che sia una nuova e non spero che sia una nuova e le forbici normali, se le avete quelle da decoro è meglio, e una cuciteggia. Eccoci pronti, partiamo con le stelle dentali. Allora, prendiamo un tagliolo e lo dividiamo in quattro, come questo, con le forbici naturalmente. Allora, prendiamo la parte di questo, pieghiamo la fisa monica in questo modo. Allora, prendiamo un punto di cucitrice. Un punto di cucitrice più o meno al centro, con le forbici facciamo due triangoli, da un lato e dall'altro. E poi, con molta pazienza, alziamo i veli dentro, guardiamolo in questo modo. In questo caso, i miei tre. Allora, prendiamo un po' di lato. Eccolo E' la vostra stella di Natale La potete usare come una tenda Come segna posto O come più vi piace Poi vedrete gli altri video Le farò a due colori Farò delle ghirlande fuori porta Sempre con questi Ok? Grazie per l'attenzione Ciao e auguroni